Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Sì, fa un po' strano anche a me dire queste parole, però eccomi qua, sono tornata. Che cosa è successo? Cosa mi ha portato a tornare? Sappiamo tutti, oggi è il 18 marzo 2020 e siamo ufficialmente in quarantena. Dirlo è un po' apocalittico, però è così, è così in tutta Italia. Ma va, direte voi, vabbè. È così in tutta Italia. Io, fra l'altro, abito in Lombardia, quindi epicentro di questa tragedia, di questo virus che sta contagiando tutti. Tutti. Questa è la questione. Vabbè, non sono qui a fare un video di informazione, ovviamente. Nel senso che io non sono esperta, non sono giornalista, non sono neanche immunologa, virologa, non so neanche se esistono queste parole, per insomma di sì. Sono soltanto una qualunque che è a casa, che non sa che cosa fare, che si lamenta tutte le volte, tutti i giorni, del fatto che non riesce a fare le cose che vorrebbe, come ad esempio seguire il suo canale YouTube e montare i video che ha in programma da anni. E finalmente non ho più la scusa, cioè nel senso che se non li faccio ora, quando li faccio. Così su Instagram ieri, durante una stories, ho detto che avrei voluto approfittare di questo tempo per fare queste cose, per montare i video dell'estate, per esempio, perché io ho registrato per ogni anno in cui non ci siamo visti, quanti sono? 15, tutti i video delle vacanze. Perché pensavo, io ero fortemente convinta che sarei riuscita a rientro, a pubblicarli, ma non ho mai fatto. Detto questo, qualcuna mi ha anche risposto, tramite il massaggio privato, abbiamo fatto due chiacchiere, e alcune mi hanno consigliato, invece di montare quei video vecchi, che ho sempre il tempo di farlo fondamentalmente, di pubblicarne di nuovi, più attuali, relativi a questo periodo. Così tengo loro compagnia, in realtà io lo faccio per che voi mi teniate compagnia, ho il cucù. Questo cucù canta sempre nelle ore sbagliate. Facciamo finta che non ci sia e proseguo, anche perché non voglio dover montare questo video. Non lo voglio tagliare. Ora sono a 12 rintocchi, ovviamente, perché non è che poteva essere l'una. Che dicevo? Non lo voglio tagliare perché non ho lo spazio sul computer per farlo, e per fare una roba veloce, per essere sicura che lo registri, poi lo monti e lo pubblichi, deve essere una roba semplicissima. Lo faccio addirittura col cellulare. Fra l'altro è un cellulare rotto, quindi non sono neanche sicura che mi vediate a fuoco. Facciamo finta che sia a fuoco e nei prossimi giorni spero di riuscire a rintracciare la mia fotocamera, che è sotterrata da qualche parte, non so dove boh. E nulla, ci facciamo un po' compagnia. Io ho già passato tutte le fasi della depressione da virus, perché appunto io ho cominciato a lavorare da casa il 21 febbraio, oggi vi ho detto è 18 marzo. Ho passato il mio compleanno da sola, ho lavorato tre settimane di smart working, la mia azienda grazie a Dio l'ha sempre fatto, però normalmente facevamo due giorni al mese. È stato difficile, è stato strano abituarmi a stare da sola tutto il tempo. È stato brutto. Ho passato la fase in cui ho vissuto solo in pigiama, poi ho cominciato a truccarmi per stare a casa, anche se io non mi trucco neanche per andare a lavoro, cioè non è che vado in giro al lavoro truccata così, anche perché la mattina normalmente ho tre minuti per alzarmi, prepararmi, muovermi, vestirmi, arrivare, arrivo tutta stropicciata al lavoro, sicuramente non sono truccata. Però ho deciso che magari facendo questo video siamo sicuri che faccio qualcosa di utile, magari, ci teniamo un po' compagnia, mi raccontate un po' come va dalle vostre parti, e fondamentalmente nulla, questo. L'ultima cosa che mi restava da fare prima di fare i video è probabilmente palleggiare con la carta igienica come se fosse un pallone, va di modissima, però no, no, diciamo che ce lo teniamo per l'ultimo video, l'ultima fase della pazzia per quanto mi riguarda, dopo parlare da sola con la fotocamera, è sicuramente palleggiare con la carta igienica, sì. Come va la vita? Va bene, va tutto ok, cioè va tutto bene, il mio cane abbia sul balcone, non ci fate caso, i miei vicini mi sfratteranno prestissimo, però ha avuto un incidente, chi mi segue su Instagram lo sa perché l'ho appunto spiegato in quella stories in cui dicevo che avrei cominciato a fare i video, ha avuto un brutto incidente a gennaio, l'hanno investita, si è rotta tutta, ora è in gran forma, è lì che abbia come una pazza, però è stato gennaio, è stato un mese di merda, diciamolo, poi febbraio ha incominciato il coronavirus, evviva, è proprio un anno meraviglioso il 2020, speriamo che vada meglio, peggio, può andare peggio, sì, può sempre andare peggio, questo è quello che ho imparato in questi anni. Sto leggendo moltissimo, quindi potremmo parlare di libri, sto cucinando perché ci è presa tutta questa maniera di fare le Masterchef in questo periodo di quarantena, sto prendendo 9.000 chili, lo vedete dalla mia faccia che è enorme, in realtà ce l'avevo anche prima della quarantena, questi chili in più, però invece che preoccuparmene come facevo anni fa, fondamentalmente ora me ne sbatto, cioè sono molto più serena su questo punto di vista, quindi pensavo anche di togliere tutti i video della dieta, i video che non me li specchiano più, in questi anni sono cambiata tanto, non sono proprio la persona che conoscevate in realtà e questo era uno dei miei timori nel riaprire il canale, tra l'altro, ho proprio cambiato alimentazione, ho cambiato casa, insomma è cambiato un po' tutto e quindi non so se vi può interessare in qualche modo, proviamoci, male che vada se vedo che c'è di interesse o se vedo che io non riesco a stargli dietro, ma è impossibile non stargli dietro, non ho null'altro da fare fino almeno al 3 aprile, quindi in quei casi la tagliamo corta e fino ad allora invece se riusciamo magari ci facciamo un po' compagnia, ditemi voi se può interessare, non ho nulla da insegnarvi, non sono qui a dirvi di star a casa anche perché io penso che a questo punto che cosa bisogna fare lo sanno tutti, tutti sappiamo qual è la situazione, il telegiornale non fa altro che parlare di questo, da me appunto si sentono tutto il giorno, ora io ho i doppi vetri, quindi non si sente nulla a trarre nasci che mi abbaia proprio al vetro, però continuano a passare ambulanze, è un clima un po' strano quindi non sono qui a dire che cosa fare, che cosa non fare, non penso che una persona che voglia uscire vedendo il mio video cambia idea, onestamente non credo proprio di avere questo potere su nessuno, io sono a casa, sono a casa non ce la faccio più, sono arrivata ad una fase in realtà in cui mi sto anche abituando, mi sto prendendo i miei spazi, me la sto prendendo più con calma, mi sono un po' rassegnata, la prima settimana dopo lo smart working, quindi le prime tre settimane ho lavorato ovviamente, poi la prima settimana di ferie stavo semi impazzendo, ho continuato a lavorare nonostante fosse in ferie, anche il mio capo mi diceva ma che cazzo fai, sei in ferie, fai le ferie, ma mi sembrava sprecarli, non so come dire, cioè sono ferie che ho accumulato tutto l'anno scorso e le devo passare qui in casa da sola, cioè non posso neanche viaggiare, che è l'unica cosa che mi interessa fare in generale, la vita, quindi nulla, facciamoci compagnia, questo video è già durato troppo, sette minuti, per fortuna non devo fare tagli, quindi magari riesco veramente a pubblicarlo, e nulla, e nei commenti ditemi dove siete e aggiornatemi su come state, io spero che siate tutti bene, spero che i vostri nonni, i vostri genitori, insomma le persone anziane che sono quelle più colpite stiano bene, le vostre persone intendo dire, le mie stanno bene, siamo tutti chiusi dentro, quindi ognuno a casa sua, però stiamo bene, facciamo delle lunghe call, lunghe telefonate, allenamenti insieme con mia sorella sto correndo ogni sera, e nulla, facciamoci un po' compagnia, non saranno vero i vlog, magari vi faccio vedere quello che mangio, magari vi faccio vedere quello che leggo, e nulla, per ora in questo primo video io direi che mi fermo qui, anche perché otto minuti mi sembrano già sufficienti, dopo novemila anni che non ci sentivamo, spero che vi faccia piacere il mio rientro a casa di queste due settimane, vediamo se riusciamo a portarlo un po' più in là, vediamo se finalmente riesco a montare i video delle vacanze, stanno diventando un incubo i video delle vacanze, i video delle vacanze leggiano su di me, è nulla, vabbè vado a disfare gli scatoloni del trasloco, che ho fatto quattro anni fa, meglio tardi che mai, ciao, oddio, mi sono impastrocchiata col gloss, ciao.